L'Almanacco della Fede Di Padre Livio Cominciamo come sempre con un pensiero spirituale In questo tempo stiamo focalizzando il cammino che ci porta alla grotta di Betalemme Quindi stiamo facendo un tragitto di conversione interiore Di cambiamento di vita che poi si concretizza prima di Natale con il sacramento della penitenza Una bella confessione così da poter avere il nostro cuore purificato E vivere il Natale che è la nascita di Gesù nel nostro cuore Dunque cari amici l'ultima volta abbiamo parlato del dolore e dei peccati Voi tutti o quasi tutti conoscete le due preghiere che il sacerdote vi fa recitare Al termine della confessione l'atto di dolore oppure o Gesù d'amore acceso Ambei due in queste preghiere c'è il dispiacere Di aver offeso Dio infinitamente buono E degno di essere amato E quindi proprio guardando la croce come diceva Santa Caterina da Siena Noi vediamo quanto siamo amati E quindi vedendoci così amati Non possiamo che versare lacrime di dolore per il nostro disamore La nostra indifferenza e anche a volte l'offesa vera e propria Nei confronti del cuore di Gesù Dunque voi mi chiederete ma come si fa a suscitare il dolore? Beh il dolore si tratta da un dolore soprannaturale Quindi non necessariamente deve portare alle lacrime Insomma poi dipende dai temperamenti Però il dispiacere è di carattere soprannaturale Cioè quello che noi proviamo diciamo nella nostra vita Nelle nostre relazioni umane Tanto per fare un esempio comprensibile a tutti Quando noi siamo amati da una persona E poi tradiamo questo amore E ovviamente poi ci rendiamo conto Di questa ferita che abbiamo inferto agli altri E se veramente vogliamo bene a questa persona Chiediamo perdono E esprimiamo tutto il nostro dispiacere Tanto più questo è il nostro rapporto con Dio Dal quale proprio guardando la croce Si manifesta un amore prodigo senza confini Però adesso vorrei parlare di un'altra cosa Che però è un'altra considerazione Che ci aiuta a provare dolore Ci aiuta a come dire A cambiare vita Ci aiuta a speronare l'anima Come direbbe Santa Catarina da Siena Ed è l'odio per il peccato Questa in genere Credo che sia la prima volta Che io faccio una catechesi sull'odio Verso il peccato Benché ne abbia parlato a volte Ma mai come un tema specifico di catechesi E invece è importantissimo È importantissimo l'odio verso il peccato Che non è l'odio verso il peccatore Ovviamente non è l'odio verso noi stessi E neppure l'odio verso gli altri Quando vediamo uno che fa i peccati Cioè l'odio per il peccato è una cosa L'odio per il soggetto che commette i peccati È un'altra cosa Nel primo caso possiamo dire L'odio è necessario Nel secondo caso Invece Diciamo Invece per l'odio ci vuole la misericordia Cioè verso il peccato ci vuole l'odio Verso il pecatore ci vuole la misericordia Perché dobbiamo odiare il peccato? Il peccato dobbiamo odiarlo Perché è un veleno È un veleno che ci distrugge Ora Questo noi lo vediamo Poi facendo i bilanci della nostra vita Cioè la via del peccato È la via del male È la via della degradazione Di noi stessi È la via dell'autodistruzione È la via della schiavitù di Satana È la via della sofferenza Mi ricordo che Caterina da Siena Leggendo il suo grande capolavoro Il dialogo della divina providenza Dice che ci sono anche i martiri di Satana Un'espressione un po' udace per la verità Però molto efficace Cioè chi sono i martiri di Satana? Sono quelli che Commettendo il peccato Poi martirizzano se stessi Distruggono se stessi Crucifichono se stessi E questo perché, cari amici? Perché il peccato È un veleno Che ci autodistrugge Questo è uno dei primi segnamenti della Bibbia Cioè la Bibbia ci presenta I nostri progenitori In uno stato di beatitudine Di amicizia con Dio Che è il dono più importante Quindi i cuori pieni di amore E poi tutti i doni che derivano Da questa amicizia con Dio Cioè l'immortalità La sapienza L'integrità psicofisica L'assenza del dolore Insomma Una vita paradisiaca Che ha il suo fondamento Nell'amore di Dio Appena entra nel mondo il peccato Cioè appena Eva guarda La possibilità che Satana le offre Di essere come Dio Subito perdono il dono dell'amicizia L'ha rifiutato Hanno preferito Satana a Dio Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica Hanno disprezzato Dio Per seguire Satana Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica Perdono la divina amicizia E cadono in una situazione esistenziale Che è quella nella quale noi nasciamo Cioè di perdita dei doni soprannaturali Una condizione esistenziale come la nostra Votata alla sofferenza e alla morte All'ignoranza e all'oscurità E poi a partire da questa ferita Se non ci fosse la grazia Sarebbe come dire La vita sarebbe uno scivolare Verso la perdizione eterna Sappiamo che non dovremmo mai parlare di questo Senza parlare della redenzione certamente Perché con la grazia Veniamo riportati alla condizione originaria Di amicizia con Dio Pur essendoci noi la concupiscenza Questa spinta al male Che rimane Che Dio ci ha lasciato Perché con l'aiuto della grazia Attraverso il combattimento spirituale Possiamo far sì che la salvezza sia E nel medesimo tempo un dono di Dio Ma anche un nostro merito Dunque Il peccato è un veleno Allora cosa fa Satana? Satana Ovviamente Ce lo presenta come se fosse qualcosa di appetibile Cioè il peccato è un morso di Satana Vi ricordate Quel messaggio Diciamo Quella espressione Potente Della regina della pace Solamente lei poteva Solamente lei poteva Formare Un'espressione del genere Dicendo Quando ha detto Satana vi distrugge Con quello che vi offre Formidabile Satana vi distrugge Con quello che vi offre Ovviamente quando Satana offre Offre Con noi facciamo un'offerta E offriamo qualcosa a qualcuno Ovviamente Noi confeziamo qualcosa di buono E poi lo confezioniamo bene Lo presentiamo bene Perché sia appetibile Però se qualcuno È una persona che vogliamo Che vogliamo A cui vogliamo male A cui vogliamo far del male Allora quel veleno Cerchiamo di renderlo ancora più appetibile Ancora più desiderabile È quello che fa Satana con noi Quando appunto Ci offre Come ha offerto a Eva Pensate Come è stato astuto Satana Ha presentato a Eva La possibilità di diventare come Dio Come se fosse La somma felicità Qualcosa di sommamente appetibile Eva Ha boccato E ha tracinato Nella caduta Anche Adamo Così Questa Siccome Satana è il menzognero Per eccellenza Cioè È menzognero Perché con la menzogna Si serve per darti la morte Come dice Gesù È il padre della menzogna È l'omicida Fin dal principio Allora Satana Che ti vuole uccidere Cioè vuole uccidere Ci vuole uccidere Cioè portarti alla Alla morte Alla morte eterna Ti confeziona La disubbidienza I comandamenti di Dio Come se fosse una cosa desiderabile Per esempio Il peccato per eccellenza Della nostra generazione Che è un peccato globale Lo descrive molto bene San Giovanni Paolo II È proprio questo Cioè Ti presenta La totale autonomia da Dio Anzi L'eliminazione di Dio Come il modo migliore Per stare bene Difatti Qual è lo slogan Dell'attuale generazione Che ha rifiutato La fede e la croce Qual è lo slogan Anche Satana ha coniato Senza Dio si vive meglio Questa è la sua confezione Straordinaria Con la quale Inganna L'umanità in generale L'umana Gruppi di persone Inganna un popolo Perché ci sono anche Gli inganni collettivi Inganna le singole persone Quindi noi cari amici Dobbiamo Chiedere la grazia Il discernimento Per scoprire Che In realtà In quel caffè Così profumato Che Satana Ti offre Ti offre C'è l'arsenico Col quale Vai alla morte Satana Vi distrugge Con quello Che vi offre Quindi noi cari amici Dobbiamo Considerare Gli effetti Del peccato Della nostra vita Cosa ci ha dato Il peccato Della nostra vita Ci ha dato La cattiveria Ci ha dato Come dire La degradazione Ci ha dato L'infelicità Ci ha dato La tristezza Ci ha trasformato In immagine di Satana Ci ha degradato Ci ha Ci ha schiavizzato Insomma Come ha detto La Madonna Siate mia immagine E non immagine di Satana Tu col peccato Io col peccato Diventiamo immagini di Satana Una società col peccato Diventa una società infernale Quindi cari amici Noi Noi Dobbiamo prendere Consapevolezza Dell'inganno E capire Che il peccato È il nemico Numero uno Come Una volta ha detto Anzi più di una volta Ha detto Il Santo Padre Se c'è un nemico Quello che va odiato È Satana Con le sue offerte Di male Che ci fa Allora Ecco cosa vuol dire Odiare il peccato Cioè scoprire L'incanno di Satana Che ti offre Che con quello che ti offre Ti distrugge Scoprire Diciamo così Il male odore Che il peccato Fa emanare Della tua persona Cioè Molte volte tu vedi Dalle persone Che esce il male Che esce la cattiveria Gli occhi diventano grifani La bocca diventa serpentina Il cuore diventa Il cuore diventa Duro come una pietra Cioè odiare Odiare il male Che ci distrugge Imparare Cari amici A togliere la confezione Con la quale Satana Rachiude il peccato E guardare dentro E quindi Voi vedete Come il mondo oggi Presenta Il male Il mondo oggi È In gran parte O quasi tutto A servizio Del principi Di questo mondo Ci dice che L'adultiero è una buona cosa L'aborto è un diritto E tutto l'elenco Delle nefandezze Te le presenta Come desiderabili E i mass media Ci danno dentro È una cosa incredibile Ti dicono Che Non so come Non voglio Entrare Non voglio Descrivere Diciamo I bassi fondi Perché Ci vorrebbero persone Più adatte di me Però Voglio dire Che Considerando Gli effetti Del peccato In noi Dobbiamo imparare A odiarlo Se si impara A odiare il peccato Difficilmente Poi lo si commette Se il peccato Conserva Ancora Quella Aureola Attrattiva Allora Vuol dire Che Per te È un'esedia Ieri Leggevo sul giornale Una cosa così oscena Che Non credevo Ai miei occhi E cioè Hanno intervistato Delle donne E degli uomini Sposati Ovviamente Ai quali chiedeva L'intervistatore Se erano disponibili A fare qualche scappatella Al di fuori del matrimonio Cioè praticamente L'adulterio Allora Secondo Era un giornalone Non i giornali pornografici Un giornale di quelli Che porto qui al mattino E che sfoglio Allora Il 94% Delle donne E il 93% Degli uomini Rispondevano Poi non so Se su un'invenzione Del giornalista Che cosa Che erano ben disponibili A fare una scappatella Cioè L'adulterio Sarebbe una scappatella Desiderabile Appetibile Magari poi ti dicono Che fa bene al matrimonio E via via Tutti gli altri peccati Uno dopo l'altro Sono tutte cose desiderabili Tutto sommato Fanno anche bene alla salute Tirano su di morale Cioè la schiavitù Del demonio Te rappresentano La schiavitù del demonio Te rappresentano Come la somma libertà Cioè Questa potenza di inganno È veramente impressionante Cari amici Allora noi Nel nostro esame di coscienza Mettiamo a fuoco questo Tu Io ti faccio Ti dico Io molte volte parlo anche proprio In base all'esperienza esistenziale Comprete acquisisce Anche nel confessionale Ti dico questo Tu pensa A quando ho commesso Un peccato grave Di qualsiasi tipo Dopo Eri contento Davvero fatto? Non eri contento Dopo hai capito Che era un inganno Dopo hai capito Che la felicità promessa Non era tale Dopo hai capito Che hai bevuto Un becchier d'acqua Nauseabondo Questa dunque Questa dunque È Quella Capacità Cioè Queste considerazioni Su se stessi E alla propria vita Ricordati sempre Di quando eri nel male E nel peccato Come stavi male E così Tu ti senti più forte Nel resistere Alla tentazione E nel resistere Alla potenza D'inganno Del maligno E quindi Non solo Dolore per i peccati Ma anche Odio Per il peccato E odio Per il suo Ispiratore Che è Satana Odio Per il peccato Come si odia Cari amici Si odiano Le cose brutte Come si odiano I veleni E si sta Alla larga E stiamo bene attenti A non metterci le scarpe In queste palude puzzolenti E con questo Cari amici Chiudiamo questa Questa riflessione Che comunque Ha una sua Forza esistenziale Nel Tenerci notato dal male Cioè Considerare La bruttezza Del peccato E La necessità Di odiarlo Come qualcosa Che distrugge La nostra vita L'almanacco della fede Di padre Livio L'almanacco della fede L'almanacco della fede